We are J.B. Jabil è un'azienda internazionale di oltre 5 milioni di metri quadrati di spazio produttivo, l'incovalente di circa 700 campi da calcio. Jabil, inoltre, ha più di 260.000 dipendenti dispiegati in tutto il mondo, tra cui solamente in Svizzera e in Germania oltre 140 apprendisti. E io posso dire in modo fiero di essere uno di loro. I nostri formatori, dedicati a tempo pieno, accompagnano, sostengono e incoraggiano tutti noi individualmente. Tra noi apprendisti c'è un rapporto d'amicizia in cui in che tu avrai il tuo posto. Quindi basta parlare. Mettiamo gli occhiei di sicurezza. È il momento di mostrarvi cosa facciamo. Durante la formazione di base di due anni, impariamo a produrre pezzi manualmente e convenzionalmente su macchine utensili. Impariamo anche a misurare e controllare i pezzi, così come ad assemblare e commissionare tezzature. Sulla macchina CNC puoi dimostrare le conoscenze di base dei primi due anni di apprendistato. Sai quanto sono spesso i tuoi capelli? Le nostre toleranze sono molto più piccole. Durante la formazione di base, ci prepariamo per l'edema in parziale. Poi, nella formazione approfondita, miglioriamo le nostre competenze. Perché alla Jabil impariamo anche a programmare le macchine CNC. Come polimeccanico, puoi essere impiegato in molte aree diverse della produzione, realizzando attrezzature e pezzi di ricambio. Durante la nostra formazione alla Jabil, impariamo come soddisfare i più alti requisiti di qualità dell'industria dei dispositivi medici. Come ultimo passo, i componenti vengono assemblati. Infine, l'ultimo passo dopo il controllo dei componenti è il montaggio finale. È importante essere precisi nell'assemblaggio e garantire la qualità richiesta nei disegni. È una grande soddisfazione raggiungere questo risultato. Ora, hai ricevuto una visione del nostro lavoro quotidiano come apprendista polimeccanico. Se ti è piaciuto, cogli questa opportunità. Vieni da Jabil! Vieni da Jabil!